Caggiano continua a battersi per il ripristino dell'autonomia, c'è stata l'udienza dinanzi al Consiglio di Stato, sentiamo come è andata attraverso le parole dell'Avvocato che rappresenta il Comune di Caggiano. Partiamo da un elemento che c'è una sentenza di primo grado, Tar Napoli, con la quale è stato dichiarato illegittimo, quindi è stato annullato l'accorpamento, quindi ripristinando l'autonomia dell'Istituto Comprensivo di Caggiano. A fronte di questa sentenza del Tar, la Regione Campania ha proposto appello al Consiglio di Stato chiedendo la sospensione dell'esecutività della sentenza. Questa istanza è stata discussa ieri, è uscita l'ordinanza del Consiglio di Stato, la sezione settima, con la quale è stata rispinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza proposta dalla Regione Campania ed è stato soltanto stabilito che l'udienza di merito di trattazione dell'appello dovrà essere fissata nel più breve tempo possibile. Per cui allo Stato continua ad essere esecutiva e quindi efficace la sentenza del Tar Napoli, con la quale è stata ripristinata l'autonomia dell'Istituto Comprensivo di Caggiano. Adesso le autorità competenti si adegueranno a questa ordinanza del Consiglio di Stato. Abbiamo fatto nominare un commissario ad acta da parte del prefetto che deve dare esecuzione alla sentenza.